Ciao a tutti e bentornati su questo canale. Oggi affrontiamo il programma della lista Stati Uniti d'Europa che, come possiamo vedere, è un mappazzone di simboli che, in teoria, dovrebbero lottare tutti per lo stesso motivo o obiettivo. Dura 14 pagine, è davvero brevissimo e è l'unico programma che esplicita che chi si candida con la lista Stati Uniti d'Europa andrà davvero a Bruxelles. È così rilevante dirlo, vedendo comunque che si candidano tutte persone che a Bruxelles non ci vanno e l'hanno esplicitamente detto, può essere rilevante. Affrontiamo i temi, perché comunque anche le persone che si candidano potrebbero poi decidere appunto di non andare. È un impegno che si prendono, però anche qui chi lo sa cosa potrebbe succedere. Quindi andiamo sui temi e affrontiamo i temi appunto inerenti alla giustizia e ai diritti. Perché io, essendo laureata in giudisprudenza ed abilitata all'esercizio della professione forense, di questi temi parlo. Non parlerò degli altri temi, perché non sono una tuttologa. Quindi andiamo avanti. Punto 5. L'Europa della democrazia e dello Stato di diritto. Qui il tema affrontato sostanzialmente è il superamento dell'articolo 7 del TUE per come è sancito al momento. Quindi sostanzialmente superare l'unanimità del vuoto. Come abbiamo visto, è un tema presente in tutti gli altri programmi che abbiamo analizzato fino ad ora. E c'è chi lo vuole riformare e chi no, come la Lega. Però è un tema che è ricorrente. È un tema che hanno affrontato sostanzialmente tutti. Quindi era ovvio e scontato trovarlo anche nel programma di Stati Uniti d'Europa. Se leggiamo appunto quello che c'è scritto appunto in questo punto 5 all'inizio, ci ricorda, diciamo, quello che vorrebbe fare il PD. Quindi utilizzare il voto non come merce di scambio. Quindi io voto a favore se mi tagli le sanzioni sullo Stato di diritto. Questo è quello che vorrebbero evitare, sia dal lato del PD, sia dal lato degli Stati Uniti d'Europa. Quindi diciamo che è un punto in comune, in un certo senso. Però si commette lo stesso identico errore che aveva commesso anche il PD. Cioè quello di declinare i problemi nazionali a livello europeo. Quindi tutti i problemi nazionali che andrebbero risolti a livello nazionale all'interno, con delle leggi nazionali, perché è competenza della legge nazionale, risolvere quei problemi sono delle cose su cui l'Unione Europea non può fare sostanzialmente niente. si vuole dare appunto potere all'Unione Europea a dire eh, dobbiamo andare in Europa per risolvere questi problemi. Ma in Europa non puoi fare assolutamente nulla per risolvere questi problemi. Ma appunto non sembra essere compresa questa cosa, perché il sovraffollamento carcerario e le lungaggini giudiziarie non sono dei problemi che può risolvere l'Unione Europea. Sono dei problemi che dobbiamo risolvere noi. Perché sul fatto che ci sia del sovraffollamento carcerario e sul fatto che i detenuti siano trattati non proprio bene e che ci siano dei trattamenti disumani e degradanti è già successo? Siamo stati già condannati a livello europeo per questa cosa e l'Unione Europea non può fare più di questo. Oltre a dirci, oh, svegliati, fai qualcosa. Quindi è un problema nazionale che dovremmo risolvere a livello nazionale. E quindi all'interno di un programma dell'Unione Europea non vuol dire assolutamente niente. Vuol dire solo che tu dici, è certo problema, e che tu vuoi deresponsabilizzare te stesso e i politici nazionali dall'affrontare questo problema e dal trovare delle soluzioni. Può decidere l'Unione Europea che il pampenalismo non è una soluzione? Perché questo governo, appunto, ha adottato dei nuovi reati. Quindi ha preso il pampenalismo come soluzione ai mali. Decidere quale caserma riallocare per dare dei posti in più a livello carcerario non può deciderlo l'Unione Europea. Dobbiamo deciderlo noi. Deve deciderlo il governo, il Parlamento. Non può decidere l'Unione Europea che trattare in maniera preferenziale un detenuto rispetto ad un altro è sbagliato. Dobbiamo dirlo noi. Dobbiamo ammetterlo noi. Siamo noi Stato Nazionale a dover fare tutte queste cose. E tanto è anche a dover ammettere che nessuno ha mai voluto risolvere questi problemi. Andiamo avanti. Successivamente il problema di trattare dei problemi nazionali e di deresponsabilizzarsi dicendo che è un problema europeo succede di nuovo. Perché appunto si dice che la carcerazione preventiva deve essere limitata ai casi più gravi senza che se si trasformi in una pericolosa anticipazione della pena e quindi serve un rafforzamento della presunzione di innocenza. A livello europeo tutto questo c'è già. Bisogna far capire ai media nazionali a la parte nazionale che il carcere non significa pena certa. Che se tu vieni indagato e sei imputato non significa che tu sei automaticamente colpevole. Che se vieni condannato e non finisci in carcere ma sconti la pena in maniera diversa non significa che l'hai fatta franca. Ma questi non sono problemi europei sono problemi nazionali. Andando avanti si dice appunto che bisogna preservare appunto la dignità dell'indagato imputato in ogni fase delle indagini appunto anche in chiave di comunicazione dei mass media. Quindi sostanzialmente stanno dicendo che la mediaticità dei processi fa male al procedimento effettivo in aula di tribunale. Ma buongiornissimo! E l'Unione Europea cosa dovrebbe fare per evitare che accada questo? Assolutamente niente dovremmo essere noi a livello nazionale che spieghiamo tutta questa cosa qui. Dovrebbe essere anche il governo e i membri del governo che spiegano questa cosa qui che raccontano perché è sbagliato e quant'altro. Quindi tutto molto bello e tutto molto inutile in questo programma. La domanda fondamentale diventa comunque come si vuole agire per risolverli? Perché stante il fatto che questi sono problemi si vogliono declinare a livello europeo? Va benissimo! Nessun problema! Ma come li vuoi risolvere? Perché nella prima pagina sta affermato che sono tutti problemi su cui loro vogliono porre il loro impegno politico. Ma se stanno chiedendo un voto almeno io vorrei capire come vogliono modificare qualcosa perché se tu mi dici c'è questo problema io ti dico ok se è vero è un problema bisogna fare qualcosa per cambiare quello che sta succedendo però se non mi dai una soluzione o non mi dai il modo in cui tu vorresti migliorare la cosa io perché dovrei votarti? Per il fatto che hai riconosciuto che quello è un problema? Se basta questo sarebbero tutti bravissimi politici non bastano le buone intenzioni serve la materia prima serve l'idea effettiva quindi questo primo punto è tutto molto bello e come succo effettivo zero andiamo poi al punto 6 l'Europa dei diritti e delle libertà che appunto si dice che bisogna appunto puntare a tutelare tutti i diritti riconosciuti dall'Unione Europea e si dice che nessuno deve mettere in discussione i diritti acquisiti nel campo delle libertà individuali anche qui tema nazionale perché se a livello nazionale alcuni diritti vengono limitati è un problema nazionale l'Unione Europea oltre a dirti guarda che guarda che guarda che non può fare molto non può arrivare lì sostituirsi al potere nazionale dire guarda adesso ci sono io decido io è questo il problema che non viene capito questo cioè tutti i problemi nazionali sembra un programma per le elezioni politiche vabbè ok ma secondo me il programma così non va da nessuna parte poi si parla del traffico legale di stupefacenti che deve essere ripensato questo contrasto però non viene spiegato in che chiave deve essere ripensato in che modo deve essere ripensato sì sappiamo che più Europa è a favore della legalizzazione della cannabis bene ma come vogliono renderlo cosa vogliono fare effettivamente a livello europeo per arrivare a questo obiettivo comparare le legislazioni poi in un moderne valutate come tali da chi secondo quali parametri sono valutate come le più moderne compararle per creare cosa per fare cosa si vuole quindi avvocare tutte le decisioni in capo all'unione europea un grande stato che decide tutti gli altri devono dire oh sì sì ok hai ragione perché questo sembrerebbe tante domande nessuna risposta tante idee tante problematiche effettivamente che sono tali e zero soluzioni proposte c'è poi il punto 8 l'Europa della solidarietà e della responsabilità dove sembra avere le idee leggermente più chiare sostanzialmente non vogliono gli accordi sia UK Rwanda o Italia Albania e poi dicono che la soluzione sarebbe quella di riformare Frontex appunto perché è fondamentale a livello appunto europeo e a livello dei migrazioni appunto per un controllo efficace delle frontiere esterne dell'Unione europea e del rispetto dei diritti umani bene però bellissimo riformare Frontex può essere una proposta ma come riformarla gli si vogliono dare delle nuove competenze o dei nuovi poteri gli si vuole dare più libertà d'azione cosa si vuole fare per riformare Frontex cosa proprio effettivamente vogliamo riformare Frontex dandole i poteri A B C in aggiunta ai poteri D E F che già ha questo significa un programma non quello che stanno facendo loro su questa lista l'unica certezza che si possono avere sono le personalità perché magari le personalità sono brave sono delle personalità di spicco competenti quindi nel caso in cui prendiamo Tizio X sappiamo che magari è sensibile ad un tema che vuole proporre quel tipo di legge nel caso in cui venga eletto per contrastare uno dei determinati problemi individuati dal programma ok ma se io devo votare solo sulla base del fatto che mi fida abbastanza di una persona per sapere che vuole proporre una legge nel modo in cui lo farei anch'io non è abbastanza secondo me è tutto troppo 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 fumoso spero che il video vi sia stato utile a capire cosa c'è all'interno del programma di Stati Uniti d'Europa e mettete like al video condividetelo e ci vediamo con il prossimo programma grazie a tutti